L'emozione di giocare con la squadra del tuo quartiere è sempre importante. Abbiamo fatto una grande vittoria su un campo difficile, contro una squadra molto forte che ci ha dato fila tutta la partita, ma noi abbiamo fatto la vittoria del cuore. E' la squadra del mio quartiere, di più non potevo auspicare. I tifosi sono l'anima, sono la nostra anima. Noi dediciamo la vittoria al loro che ci seguiamo ovunque andiamo e ai nostri grandi presidenti che fanno grandi sacrifici per portarci avanti.